5 punti in 3 partite, quasi bottino pieno per il rilancio del Perugia nelle zone alte della classifica. Oggi contro il Cagliari per la squadra Umbra, assenti Casarza e Nappi e con il debuttante De Gradi, 21 anni, ex cremonese, non ha segnato Paolo Rossi ma è tornato al gol Bagni. Un gol importante, giunto dopo soli 8 minuti, che ha espresso nel primo tempo la supremazia territoriale e tecnica di un Perugia indiscreta giornata. La squadra di Castagnier poteva benissimo arrotondare il bottino e chiudere il conto al 25esimo, quando Bagni, approfittando di un liscio di longobucco, colpiva la traversa. Tre minuti dopo Selvaggi sparava altissimo una combinazione dell'attacco cagliaritano. Perugia-Cagliari è stata anche la partita delle occasioni sprecate e dell'opportunismo di Rossi non compensato dai compagni, con altrettanto senso dell'altruismo. La prima di queste occasioni è stata per Butti al 39esimo, comparata di Corti. Al 43esimo è Malizia a deviare in angolo una conclusione di Roffi, con Briaschi in attacco al posto di Roffi e con un Cagliari più spinto in avanti prende il via la ripresa. Selvaggi manda fuori al quarto, un minuto dopo è Corti a deviare in angolo la conclusione di Dalfiume, che al nono si mangia un gol così. Il Cagliari, apparso tutt'altro che in crisi atletica e di gioco, macina azioni ma rischia il contropiede Umbro. Bagni al tredicesimo dimentica Rossi e Supa. Al 22esimo contestazione Umbra per fallo su Rossi. E al 23esimo è Ceccarini ad azzeccare l'intervento liberatorio su conclusione del cagliaritano Piras. Castagnier corre ai ripari, mandando in campo Zecchini e la fortuna dà una mano al Perugia, con questa traversa colpita da Selvaggi al 39esimo. Il Perugia ringrazia e tanto per continuare, Supa ancora il gol a 4 minuti dalla fine con Butti, una vendetta dell'ex mancata per due volte.